Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Io sono Ikudo e questa è la Biblioteca di Alessandria. Una delle cose che ho sempre trovato più noiose quando si parla di storia è quel momento in cui la storia diventa partigiana, in senso ampio, cioè quando si inizia a parlare di storia in maniera da tifosi tra chi è di destra, chi è di sinistra, chi è rosso, chi è blu, chi è juventino, chi è interista e si arriva a fare una delle cose più brutte che si possano fare, cioè le classifiche per scegliere il peggiore. La più classica di queste classifiche prevede di andare a stilare una graduatoria tra se abbia fatto più morti l'estremismo di destra o l'estremismo di sinistra, se abbia fatto più morti il nazismo piuttosto che lo stalinismo. Quando poi si arriva a livelli proprio bassi, 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 si semplifica dicendo se ha fatto più morti il fascismo, in generale la tirannide, chiamiamola così, le dittature di destra, oppure il comunismo, come se il comunismo fosse semplicemente lo stalinismo, mentre ovviamente è un movimento economico-politico, una cosa un po' più ampia ma lasciamo perdere, comunque il comunismo o le dittature di sinistra. In quest'ultimo campo, normalmente il primo nella graduatoria ovviamente è Stalin e da lì non ci si scappa, ma molto spesso al secondo posto in questa graduatoria dei cattivi, che è un termine secondo me veramente troppo semplice per mettere insieme di tutto, insomma in questa graduatoria di solito al secondo posto ci sta un nome molto particolare, cioè Pol Pot. Pol Pot viene quasi sempre nominato, di lui si dice che è responsabile del genocidio cambogiano, che era comunista, tutte cose assolutamente corrette, e poi ci si ferma qua. In realtà la storia di Pol Pot è molto molto interessante e nasconde tantissime sottostorie, sottotrame, che ci raccontano di come il mondo raramente sia bianco oppure nero, ma sia un gigantesca massa di grigio. Se ad esempio vi dicessi che Pol Pot era sì comunista, ma il suo principale avversario non era di estrema destra, ma erano i vietnamiti, anche i loro comunisti, se vi dicessi che Pol Pot ad un certo punto fu appoggiato dalla Cina, comunista, ma anche dagli Stati Uniti, che ovviamente comunisti non erano, tutto questo ovviamente racconta una storia molto più compresa, ed è questa quella che vorrei raccontarvi oggi. La storia di Pol Pot inizia ovviamente in Cambogia. Per chi non lo sa, la Cambogia è un piccolo stato facente parte dell'Indocina, lo vedete sulla cartina a fianco a me, che si trova per intenderci a sud del Vietnam. La Cambogia, quando Pol Pot nacque nel 1925, era una parte dell'Indocina francese. Era formalmente autonoma, aveva un suo sovrano, ma in realtà era parte di quelle colonie francesi in Indocina che rimarranno fino agli anni 50. La Cambogia peraltro si era quasi legata volontariamente alla Francia, che era stata un difensore della Cambogia dalle ingerenze dello Stato vietnamita, che da sempre, essendo più ricco, più popoloso, più grande, aveva tentato di espandersi nel territorio cambogiano. In realtà vi ho detto un errore, perché il 19 maggio 1925 non nacque Pol Pot, ma nacque Nalotsar, che era il vero nome di Pol Pot, che assunse poi questo nome, diciamo, di battaglia solo anni più tardi durante appunto il suo periodo da ideologo comunista o comunque da capo politico. Nalotsar nacque da una famiglia della ricca borghesia, peraltro vicino alla famiglia reale, anche perché una delle sue sorelle era una delle concubine del sovrano stesso, e questo gli permise di studiare prima nel suo paese, prima nella capitale, Pion Pen, dove peraltro si trovava durante l'occupazione giapponese, durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi dal 1949 in poi addirittura di studiare in Francia, dove si recone 1950, dopo aver visto, dopo aver vinto l'anno precedente, una borsa di studio, appunto, per studiare. Vi racconto del viaggio francese, non perché sia anedottica, non perché voglia raccontarvi tutta la sua vita, ma perché in realtà è molto importante per capire l'evoluzione successiva, perché fu proprio in Francia dove Pol Pot venne a contatto per la prima volta con le idee comuniste, con il Partito Comunista Francese, che peraltro era schierato su posizioni anticoloniali e quindi appoggiava i movimenti anticoloniali anche nella stessa Indocina, ma dove per la prima volta Pol Pot entrò in quel circolo comunista Khmer, gli Khmer erano il popolo che viveva appunto in Cambogia, che lo accompagnerà poi per tutta la vita. Nei tre anni che passò in Francia Pol Pot fece di tutto, si interessò di politica, scalò anche rapidamente posizioni all'interno del circolo stesso, divenendone ben presto uno dei dirigenti, si spostò in Europa a seguito di questo circolo, partecipando a degli periodi in cui prestava la sua opera come operaio volontario in varie zone d'Europa per la ricostruzione, come ad esempio successe in Yugoslavia, fece tutto tranne che studiare. Tant'è che tre anni più tardi perse la borsa di studio e nel 1953 rientrò in Cambogia. La Cambogia del 1953 però era diversa da quella che aveva lasciato. I francesi stavano subendo le spinte per abbandonare appunto l'Indocina, che in Cambogia erano spinte principalmente diplomatiche, principalmente politiche, portate avanti dal sovrano Norodom Sianuk, che aveva cercato prima di far valere la sua posizione localmente, tentando di opporsi al dominio francese senza aggiungere un vero scontro, e poi aveva fatto sentire la sua voce anche a livello internazionale affinché altri stati aiutassero la Cambogia ad ottenere l'indipendenza. In realtà la Cambogia come tutto il resto dell'Indocina ottene l'indipendenza dopo gli accordi di Parigi solo a seguito della lunga guerra partigiana, la lunga guerriglia portata avanti dai vietnamiti contro l'esercito francese, che costò denaro, costò vite umane e alla fine costrinse i francesi ad abbandonare la loro colonia. A questo punto la Cambogia seguì però un'evoluzione scarsamente democratica. Come molti altri stati, peraltro nella zona, infatti rapidamente evolvette in una nuova dittatura. Il sovrano, Norodom Sianu, che infatti quando nel 1954 ottenne l'indipendenza del suo stato, fece una cosa molto particolare. Si dimise dal suo incarico di sovrano, restaurandola al regno il proprio padre, fondò un partito politico e un po' utilizzando il prestigio che gli era arrivato dall'aver liberato la Cambogia, un po' tramite minacce e attacchi contro gli oppositori politici, venne nominato nuovo presidente della Cambogia, divenendone a tutti gli effetti l'anno successivo dittatore, dopo aver messo fuori legge il partito in opposizione, tra cui appunto il partito comunista, e essersi nominato presidente a vita. Cosa fece Pol Pot in questo periodo? Beh, all'epoca Pol Pot, come detto, era rientrato in Cambogia, aveva fondato un partito, una parte del partito comunista di Campucea, come prima chiamata la Cambogia, chiamato Partito Rivoluzionario Khmer, e a differenza di altri dirigenti del partito comunista, che dopo la messa al bando del partito da parte dell'ex sovrano si erano rifugiati in Vietnam, invece rimase in Cambogia e per 12-13 anni lottò, portando avanti una lunga guerriglia dalle zone nord del paese, contro il potere del presidente. A favorire questa guerriglia, ad un certo punto ci si misero due fattori. Il primo fattore fu la guerra in Vietnam e il secondo fattore fu la risposta statunitense. Perché non lo sapesse, negli anni successivi, progressivamente i rapporti fra le due parti del Vietnam, che erano nate dagli Accordi di Parigi e che inizialmente avrebbero dovuto riunirsi, ma poi questo non avvenne per l'intervento proprio degli statunitensi, andarono peggiorando, fino a che non scoppiò una vera e propria guerra. Se volete sapere come e perché scoppiò, in descrizione vi metto il link al video che avevo dedicato alla vicenda molto tempo fa. Ebbene, allo scoppio della guerra in Vietnam, la fazione rivoluzionaria del Vietnam del Sud, i cosiddetti Vietcong, ovviamente finanziati dai vietnamiti del nord, portarono molti attacchi contro il governo centrale. Attacchi a cui risposero non solo i vietnamiti, ma anche gli statunitensi. Per cercare di salvarsi dalla risposta statunitense, che ovviamente disponeva di armi molto più avanzate rispetto a quella a disposizione dei Vietcong, i Vietcong stessi iniziarono ad attraversare il confine con la Cambogia, passare nel territorio cambogiano, creare qui le proprie basi e insomma in generale occupare una parte del territorio. Perché? Per ovvie ragioni. Una volta attraversato il confine si impediva non solo ai vietnamiti del sud di attaccarli, ma anche agli stessi americani di bombardare le loro basi. Gli americani ovviamente iniziarono a fare pressioni affinché la Cambogia entrasse in guerra e scacciasse i Vietcong dal suo territorio. Ma i cambogiani nicchiarono un po' perché in realtà non avevano nessuna intenzione di entrare in una guerra da cui non potevano che perderci, un po' perché sapevano di non avere forza sufficienza per combattere i Vietcong e i Vietnam del nord. Alla fine gli Stati Uniti, stufi di questa posizione cambogiana, decisero di finanziare un colpo di stato e così il presidente venne abbattuto dal suo secondo generale Lom Nol che iniziò invece una campagna contro i Vietcong. Questa campagna però non andò bene, tanto che pochi mesi più tardi gli Stati Uniti guidati da Richard Nixon presero una decisione assolutamente impopolare in tutto il mondo ma che, come alcuni dissero, favorì tantissimo la posizione di Pol Pot, cioè iniziarono a bombardare la Cambogia. Ora, questo avvenimento ovviamente fu un qualcosa di inaspettato anche perché la Cambogia, ripeto, ufficialmente non era in guerra, aveva anzi addirittura un governo filostatunitense. La decisione che avrebbe dovuto sulla carta stroncare i Vietcong e che invece non fece altro che aumentare il favore popolare verso il Vietnam del nord ebbe effetti anche in Cambogia perché ovviamente la massa di popolazione in fuga dalle campagne bombardate si riversò nelle città aumentando la povertà, aumentando i problemi sociali e in generale aumentando il favore verso le posizioni di chi il governo lo combatteva, cioè ovviamente le posizioni di Pol Pot. La posizione di Lom Nol si fece sempre più difficile. Nel 1973, in seguito alla vittoria nella guerra in Vietnam, i Vietcong lasciarono la Cambogia. Ma ormai il movimento rivoluzionario era anche sempre più forte, anche perché l'ex sovrano e presidente Norodom Sianuk si era unito a Pol Pot e i suoi avevano iniziato ad appoggiarne il movimento, che era diventato sostanzialmente un punto d'incontro tra tutti i movimenti di opposizione a Lom Nol. Nel 1975 Pol Pot prese Pion Pen e costrinse Lom Nol a fuggire. Nell'anno successivo in effetti si venne a creare un governo, diciamo, di coalizione in cui Norodom Sianuk era il presidente, Pol Pot era il primo ministro e si cercava di governare la Cambogia, o Campucea, come venne poi richiamata tutti insieme. L'anno successivo però questo strano accrocchio fallì. Norodom Sianuk venne messo da parte e Pol Pot divenne l'unico vero dominatore della Cambogia. A questo punto Pol Pot diede il via a quello che è comunemente conosciuto come lo sterminio cambogiano, l'ecidio cambogiano. Ovviamente non nacque come un tentativo di uccidere più cittadini possibili, ma fu un'evoluzione. Nel 1976 infatti Pol Pot propose un piano che sulla carta veniva chiamato il super balzo in avanti, che avrebbe dovuto fare rapidamente riprendere la Cambogia. Come vi ho detto la Cambogia all'epoca era in povertà, grandi masse di popolazioni in seguito i bombardamenti si erano spostate verso le città e questo non aveva fatto che impoverire il tessuto sociale. Invece però che favorire il ritorno di queste masse verso le campagne, ricostruendo i paesi, stimolando l'agricoltura, Pol Pot impose questo ritorno, letteralmente strappando le persone dalle città e obbligandole a tornare a lavorare in campagna. Ovviamente chi si opponeva veniva ucciso o veniva spedito in dei campi, letteralmente campi di sterminio, in cui dopo essere stato costretto al lavoro forzato veniva a sua volta ucciso, a volte dopo essere stato sottoposto a terrificanti torture. Chiunque si opponeva al regime ovviamente moriva e ad un certo punto iniziarono ad essere uccise persone per caso. Si giunse ad ordinare l'uccisione di tutte quelle persone che avessero portato occhiali, che era un sintomo di ricchezza, cocchiali senza essere iscritti al partito rivoluzionario come R. Ad un certo punto Pol Pot è letteralmente perse qualunque contatto con la realtà. Si giunse ad esempio a vietare la medicina, come era stata studiata fino a quel momento, perché è considerata un frutto corrotto dell'Occidente, quindi tutti i medici che avevano studiato in Occidente, a tutti i medici venne impedito di esercitare, vennero uccisi o spediti a lavorare nei campi e al loro posto venne creato un gruppo di medici, non minimamente addestrati, ai quali veniva consigliato di apprendere la medicina direttamente sul campo. Il risultato fu che questi medici tirati fuori dal nulla letteralmente iniziarono ad apprendere la medicina squartando persone, facendo su di loro degli interventi chirurgici senza nessuna conoscenza, provando farmaci senza senso. Si racconta ad esempio dell'uso di iniettare del succo del latte di cocco nelle vede con risultati facilmente immaginabili e insomma peggiorando la situazione che andava sempre più nel senso peggiore. I numeri di questo genocidio sono molto variabili. I vietnamiti parlarono di 3 milioni di morti. Altri studi portati avanti in Occidente stimolano invece questo numero tra il milione e mezzo e i due milioni, comunque all'incirca un quarto della popolazione cambogiana. Pol Potem disse invece di avere, di avere, che avessero trovato la morte non più di 600-800 mila persone. Comunque un numero assolutamente enorme in rapporto alla popolazione, in realtà enorme in totale, che lui definì in realtà oppositori del regime. Persone che erano state uccise perché volevano portare la Cambogia nel caos e riprendere il potere. A questo punto, progressivamente, man mano che la situazione in Cambogia peggiorava, le voci di ciò che stava avvenendo iniziarono a diffondersi nel mondo. Prima grazie agli oppositori, poi grazie a molti intellettuali che fuggirono dal regime cambogiano e iniziarono a raccontare che cosa realmente succedesse in Cambogia all'epoca. Perché però non si fece nulla? Perché all'epoca la Cambogia si trovava in uno strano equilibrio politico. Il Vietnam, che dopo la vittoria del Vietnam nel nord e si era riunificato alla fine della guerra del Vietnam, si era ben presto trovato ad avere molti nemici. Gli Stati Uniti, innanzitutto, ma anche la Cina, che aveva tentato di estendere il suo controllo politico sull'intera Indocina, ma non era riuscita proprio a causa dell'opposizione vietnamita, che per salvarsi, per così dire, trovare una sponda da questo ingombrante vicino, aveva firmato un trattato di alleanza e aiuto con l'Unione Sovietica, che all'epoca, nonostante fossero entrambi i paesi comunisti, era ai ferri corti con la Cina, tanto che ci furono addirittura degli scontri di confine. Magari in futuro ne parleremo. Ovviamente né la Cina né gli Stati Uniti potevano iniziare una nuova guerra e per questo iniziarono a finanziare il regime di Pol Pot affinché fosse lui stesso a tenere impegnati i vietnamiti, magari con piccole azioni di disturbo. E queste azioni iniziarono molto presto. Già nel 1976, infatti, Pol Pot ordinò che l'esercito cambogiano portasse piccoli attacchi contro i villaggi vietnamiti di confine, attacchi che molto spesso si trasformarono in massacri e a cui nel 1977 i vietnamiti risposero invadendo il territorio cambogiano. I rapporti di forza fra i due eserciti erano sbilanciatissimi, non solo i vietnamiti avevano un esercito veterano di una lunga guerra, peraltro molto superiore nei numeri, 4-5 volte, ma anche molto meglio armato grazie alla presenza di carri armati, ma anche di mezzi americani che erano stati rubati, o meglio erano stati trovati nei depositi del Vietnam del Sud. Nel 1977 i vietnamiti sconfissero l'esercito cambogiano e invasero quasi tutta la Cambogia stessa, giungendo a pochi chilometri da Pion Pen per poi ritirarsi. Perché lo fecero i vietnamiti? Beh, innanzitutto probabilmente perché non avevano intenzione di occupare la Cambogia, ma poi perché temevano che qualora avessero invaso la Cambogia questo avrebbe potuto spingere la Cina ad un intervento diretto. I cambogianni avrebbero potuto capire l'antifona e invece ovviamente non lo fecero. Gli altri dirigenti, polpotti in testa, dissero che la fuga, così venne descritta, dei vietnamiti era stata causata dall'esercito cambogiano e ben presto, una volta rioccupati i territori di confine, tornarono ad attaccare e portare dei massacri in Cambogia. Questa volta i vietnamiti non decisero di non mediare più la loro risposta. Tornarono a invadere la Cambogia, occuparono gran parte del territorio, tra cui la stessa capitale, nonostante un tentativo cinese di distrarli con una vera e piccola invasione cinese del nord del Vietnam, che però terminò ben presto, anche in questo caso i cinesi non volevano impegnarsi in una lunga guerra, ma che la guerra appunto tra i vietnamiti e i cambogiani portò alla fuga di Pol Pot. In realtà i vietnamiti non occuperanno completamente la Cambogia. Nel nord, da dove già si era ritirato molti anni prima per fuggire alle forze governative, Pol Pot continuerà a combattere con i suoi, con il partito rivoluzionario Khmer, e a lottare contro il governo fantoccio istituito dai vietnamiti proprio in Cambogia. Ad aiutarlo un po' gli amici di sempre, per così dire. I cinesi, che continuavano a mandargli aiuti, militari ma anche economici, gli Stati Uniti, che addirittura si opposero per anni in sede ONU affinché il seggio ONU della Cambogia non venisse riassegnato al nuovo governo, ma rimanesse nelle mani appunto di Pol Pot e la vicina Thailandia. Tutti alleati con Pol Pot, ovviamente in funzione anti-vietnamita. Questo stato di cose, iniziato sostanzialmente nel 1979 con la caduta di Phnom Penh, andò avanti per dieci anni, fino a quando nel 1989 i vietnamiti non decisero di ritirarsi. Il governo che lasciarono al loro posto però ovviamente non era filo Pol Pot e filo rivoluzionario e per questo, nonostante appunto i vietnamiti se ne fossero andati, il partito rivoluzionario continuò a combattere la sua guerriglia, fino a quando nel 1996, a seguito di una serie di sconfitte contro i governativi, iniziò lentamente a sfaldarsi. I tempi erano cambiati, l'Unione Sovietica non esisteva più, la Cina aveva ormai altri interessi e così i finanziamenti erano diminuiti e anche la forza di Pol Pot. Tra 1996 e 1998 l'esercito Khmer, l'esercito rivoluzionario Khmer sostanzialmente si sfada del tutto. Pol Pot, ormai preso da delirio, giunge ad uccidere alcuni dei suoi secondi in comando colpevoli di star cercando un accordo con il governo. Alla fine lo stesso Pol Pot, quasi in punto di essere catturato, morirà, pare, così viene descritto, di cause naturali. Quello che lasciò però fu un nome, un nome di battaglia che oggi è associato a uno dei genocidi più strani e incredibili della storia. In quattro anni, quattro anni in cui peraltro la Cambogia fu impegnata anche in una guerra contro il Vietnam, in quattro anni i cambogiani persero molto probabilmente un quarto della loro popolazione, uccisi nel tentativo di trasformare la Cambogia secondo l'ideale proprio di Pol Pot e dei suoi. Queste uccisioni oggi ci sembrano del tutto incomprensibili, eppure per la logica di Pol Pot di allora erano perfettamente coerenti, perché Pol Pot più volte disse che per trasformare realmente la Cambogia, per estirpare l'erba che impediva la Cambogia di crescere, bisognava strappare anche le radici, anche quando quelle radici fossero stati tanti suoi concittadini. Qui termina il mio racconto. Credo che sia molto interessante raccontare le storie di questi personaggi, non per fare un macabre conteggio dei morti, che insomma comunque devono essere ricordati, non bisogna dimenticarsene, ma perché secondo me è interessante più che altro capire come si è arrivato a questi morti e come questi personaggi siano riusciti a prendere potere. Senza dimenticarci che molto spesso, come dicevo all'inizio, il mondo non è bianco o nero, in fazioni completamente opposte, ma talvolta queste fazioni si mischiano perché gli interessi sono spesso molto più fluidi di quello che si può pensare. Appunto, come dicevo all'inizio, con la storia di Pol Pot, che lui comunista, appoggiato da comunisti e dagli Stati Uniti, fu destituito da altri comunisti, cioè i vietnamiti. Una storia veramente molto complessa. Spero vi sia piaciuto, spero di essere riuscito a spiegarla, è stata un po' più lunga questa pillola, ma perché credo meritasse capire ogni passaggio. Io come al solito vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore e nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco, c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Noi ci vediamo fra due giorni con una nuova pillola di storia. Ciao ciao!